Prima di noi nessuno aveva tentato di alare una barca con 4,20 metri di pescaggio in Fiji e in Buda Marina per fare questa abbiamo dovuto aspettare la alta più alta marea dell'anno sbandare l'imbarcazione oltre 15 gradi per ridurre il pescaggio da 4,20 a 3,40 e raggiunto l'interno della Darsena abbiamo potuto rimuovere il pallone raddrizzare l'imbarcazione, introdurla nel travelift di prua perché il timone pesca 3,5 metri e ridurre la lunghezza delle cinghie al massimo possibile per il nostro travelift nonostante tutti i calcoli fatti nei mesi precedenti fino al momento in cui il bulbo non è entrato nel piazzale passando la rampa di alaggio non avevamo la certezza di riuscirci, è stato un grande successo video completi sul canale, supportateci con la vostra sotto iscrizione, grazie a presto video 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 video